questa è la spiaggia di Makris Jalos direi un paradiso per i surfisti soprattutto per quelli che vogliono imparare ad utilizzare windsurf siamo nella zona dell'aeroporto e come vedete ci sono attrezzature per i surfisti in maniera in quantità elevata vedo un sacco di gente che sta cercando di imparare ad usare il windsurf una giornata molto ventosa quindi l'audio che state sentendo non è quello che ho originariamente registrato sul posto